Il vento della corsa verso la stazione di Milano sembra già preludere al respiro della prezza marina. Un album esprime al presidente De Micheli, al dottor Borletti e al comandatore Cicogna dell'associazione industriale Lombarda la riconoscenza di questi figli dei lavoratori. Ottanta mila ne partono ogni anno da Milano e l'associazione ha anche coordinato le iniziative delle piccole e medie industrie che non dispongono di propri istituti al mare e ai monti. Un momento che le mamme hanno desiderato e adesso quasi quasi benedirebbero il capo stazione se il treno partisse con un piccolo ritardo. Ma a post domani avranno la prima cartolina esultante dell'incontro col mare.